Buonasera al primo appuntamento con Caserta Stadio qui negli studi di casertasera.it Allora parleremo nel corso di questa puntata con il pilota di Formula 3 Valentino Carofano recentemente vincitore di una gara ad alto livello con il presidente dell'Aurora Casertana e del Termoli Flaviano Montaquila Buonasera e Nick Buontempo che è il capitano della squadra di basket di Piedimonte che ieri sera purtroppo ha avviato una bella batosta Allora cominciamo con il presidente Montaquila Allora presidente innanzitutto lei si sente presidente più dell'Aurora Alto Casertana o presidente del Termoli che domenica avrà uno scontro all'ultimo sangue? Sono presidente di una squadra, sono il presidente, dell'altra sono il patron del Termoli dove gestisco tutto io principalmente per quanto riguarda i compiti istituzionali e gestionali della squadra e no non c'è una differenzazione, ricopro tranquillamente e felicemente tutti e due i ruoli con la stessa passione e con la stessa verve che mi ha portato a vincere il campionato qualche anno fa con l'Alto Casertano e vincere il campionato con il Termoli due anni fa Lei diciamo che è un presidente tipo dell'Aurentis che magari l'anno prossimo potrà avere questo conflitto di interesse con due squadre nella stessa categoria, no? Il paragone è un po' infelice perché dell'Aurentis ce ne sta soltanto uno noi l'ho più volte detto, lo ribadisco in questa trasmissione il Termoli è una società che ha circa 100 anni di storia e arriviamo a Termoli per tentare di fare, di trasformarla in un'azienda calcio secondo quella che è la mia vision l'Alto Casertano invece è un progetto di pancia, di cuore è un progetto legato a questo territorio perché io vivo qui e per me c'è una grande voglia di vedere un domani, fra qualche anno, fra qualche decennio, non lo so un'unione del territorio che non sia soltanto più di Montematese ma che non sia mai raro Ecco, magari ne parleremo dopo di questo suo progetto che è molto ambizioso e interessante Allora, Valentino, Valentino Carofano che diciamo circa un mese fa ha ottenuto una delle vittorie più prestigiose Tu sei diventato addirittura campione italiano, è vero? Sì, l'anno scorso L'anno scorso, ok Parlaci di questa tua vittoria in quel di Misano Sì, a Misano diciamo che siamo arrivati che ci giocavamo il titolo di quest'anno e purtroppo abbiamo avuto dei problemi che non mi hanno potuto far vincere nella categoria FX2 ma ho ottenuto un primo posto nella categoria del F2000 Cup quindi sono stato molto comunque soddisfatto anche se diciamo il terzo posto nell'FX2 perché ho corso a Misano in due campionati differenti mi ha permesso comunque di portare a casa un terzo posto nel campionato italiano Sei molto giovane, hai cominciato come cominciano quasi tutti i piloti dai go-kart Raccontaci questa tua passione, da che è nata, a parte il go-kart Sì, è partita praticamente quando avevo 11-12 anni che assillavo papà di portarmi in pista e poi dalla prima volta in pista è stato subito primo amore e quindi diciamo che da lì è partito tutto si inizia sempre per gioco, per hobby poi è diventato sempre più professionale fino ad arrivare appunto al campionato italiano poi siamo passati alla formula fino ad arrivare ai giorni Poi ne parleremo di questi tuoi progetti futuri Nick, buon tempo Allora, capitano della squadra della polisportiva amatese che partecipa al campionato di Serie C ieri sera una brutta batosta, diciamoci la verità Abbastanza, sì, sì, sì era una brutta partita proprio abbiamo approcciato proprio male forse sottovalutando anche la squadra di Barra che anche se parecchi non ricordavano che l'anno scorso ha vinto il campionato proprio contro di noi vincendo cara 5 facendo un campionato quasi perfetto Barra ha vinto se non sbaglio ha ottenuto questo record di 26-27 partite consecutive quest'anno ha messo dentro 2-3 innesti molto buoni e anche voi, anche voi a quanto ne so avete preso in squadra i giocatori di 2 metri e 7 centimetri e quando passano i piedi di monte lo guardano tutti dal passo sì, 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 assolutamente ci sono 5-6 elementi buoni ma penso che questa prima parte del campionato in trasferta abbiamo avuto un po' di problemi in casa siamo ancora imbattuti Palmatese è un fortino sì, sì, Palmatese è un fortino speriamo sia così a lungo poi parliamo delle prossime partite allora, Presidente Montaguila domenica prossima non possiamo non parlare di una partitissima che purtroppo si gioca fra due squadre che sono entrambe all'ultimo posto in classifica che partita sarà? beh, noi abbiamo l'anno scorso per la prima volta l'abbiamo affrontato il Matese e ci siamo divertiti in tutte e due le partite con l'unica differenza abbiamo fatto due pari due a due a Termoli e uno a uno qui a Piedimonte con l'unica differenza che l'anno scorso Vittorio Esposito giocava con il Matese quest'anno gioca con noi e siccome... ma c'è ancora quella testa un pochettino particolare un grandissimo calciatore diciamoci la verità ma è un calciatore a cui piace cambiare squadra ogni anno perché? perché succede questo? ma Vittorio Esposito è un professionista un grande calciatore quindi va dove dove ha sicuramente maggiori stimoli quest'anno credo che lui abbia fatto una scelta principalmente territoriale visto che è di San Martino un paese vicino Termoli lo raggiunge veramente con poco e lui è molto motivato ha ovviamente dei problemi di carattere fisico che sta risolvendo però quando entra in campo come ieri ha proprio fatto un assist e un gol ecco, ci parli un po' della partita di ieri in trasferta una bella partita che l'ha fatta sì, una partita dove il Termoli voleva assolutamente vincere su un campo difficile abbiamo avuto più o meno sempre il piglio della partita se non nella parte finale quando purtroppo un loro calciatore vincevamo 2-0 e potevamo andare in gola anche per la terza e forse anche per la quarta volta però un calciatore tira e una deviazione la porta la palla in rete e da lì incominciamo a soffrire ci mettiamo paura perché poi arriviamo da un brutto periodo inutile negarlo e i calciatori sono stati veramente bravi a portare a casa il risultato ed era quello che ci serviva una vittoria molto convincente tradetta anche dagli addetti di lavoro del Real Monterotondo lei l'ha detto anche prima è un esponente del calcio qui della provincia di Caserta diciamo forse uno dei principali esponenti di calcio ci può dire secondo lei da che dipende questa crisi ormai è certo è una crisi del Matese a parte gli uomini che sono quelli che sono ma devo dire la verità io non ci credo nella crisi del Matese sembrerà strano ma il Matese ci ha insegnato anzi io conosco i dirigenti del Matese e da loro molto spesso prendo anche spunto dalla gestione in serie D perché loro anche dalla prima uscita seppero rimontare da un periodo di diverse sconfitte consecutive nella prima stagione addirittura ci entrarono i playoff se ne ricordo male quindi io proprio la loro crisi non la credo ecco perché domenica saremo ben concentrati per batterli e sarà molto molto difficile quindi aspettate che un Matese anche perché lei mi ha detto anche una piccola chicca prima che entrassimo in trasmissione il Matese si sta rinforzando si sta rinforzando e molto pure conosco il mio amico Luigi Rega e conosco i membri della società non vogliono perdere manco a briscola quindi vedremo un Matese in grande spolvero di questo potete esserne certi Allora Valentino quali sono i tuoi progetti futuri a parte correre il più forte possibile? Vabbè si parla quindi per il 2024 di continuare nel campionato italiano e fare anche delle tappe europee e poi per quanto riguarda progetti personali oltre a portare avanti diciamo questa questa passione e quindi tutto quello che concerne l'ambito motoristico anche a livello universitario perché voglio anche concludere gli studi all'università e quindi diciamo che come ho sempre fatto mi concentrerò un pilota dottore si si quindi mi sono sempre concentrato sin dai tempi del liceo a portare avanti le due cose senza togliere nulla nessuna delle due e quindi continuerò così A parte te da queste parti c'è qualcun altro che abbia appreso la tua strada? Sì ci sono alcuni piloti non un po' sparsi diciamo chi nel GT chi è rimasto nei kart in formula di queste zone qua ancora Tu dove ti alleni? I circuiti dove diciamo facciamo i test quelli più vicini sono appunto Battipaglia vicini sempre tra virgolette comunque ad Eirola e altrimenti ci spostiamo comunque Vallelunga quindi non sono più vicini diciamo perché purtroppo nel campionato italiano i maggiori circuiti in Italia sono appunto Monza, Imola, Mogello, Misano e quindi per noi sono tutti La figura di tuo padre in questa tua passione? È una grande figura diciamo che devo tutto a lui è stato grazie a lui che ho mostrato i primi passi in questo sport mi è sempre stato vicino è sempre stato dietro e mi ha sempre spronato anche a fare diciamo di più di quello che io pensavo perché ci sono a volte momenti in cui di difficoltà però lui lui ha sempre alzato l'asticella e a volte ero io che lo seguivo quindi è una bella figura è lui che ho in cuffia quando corro quindi ci deve essere comunque un bel rapporto dietro altrimenti diciamo non penso che si riescono a ottenere questi risultati Allora Nick Nick buon tempo allora parlaci un po' di questi stranieri di questi stranieri della polisportiva che vivono qua a Piedimonte e che vi danno una mano sotto il canestro ok allora sono a parte ci sono altri tre ragazzi tra virgolette stranieri però italiani che vivono qua uno è di Latina uno è Pugliese e poi ci sono questi due ragazzi belli grossi belli alti uno è lituano e l'altro è bosniaco però di formazione italiana giocisticamente parlando e a parte ci sono tutti ragazzi seri sono ragazzi che si allenano poi sono ragazzi che nel mondo del basket della Serie C Campana Pugliese quindi al sud già si conoscevano quindi sono buoni giocatori e nulla ci stanno dando una grossa mano la prossima partita allora giochiamo in casa contro Antoniana che al momento è due punti sopra di noi quindi agganciarli è possibile possiamo agganciarli anche perché hai detto avete vinto tutte le partite da Salinde speriamo di continuare così quindi in casa nostra è dura almeno nel momento parlando è molto dura io direi di concludere questo nostro piccolo appuntamento col presidente Montaquila il suo progetto futuro è di un comprensorio che possa prevedere Piedimonte magari Vairano una squadra forte una squadra forte qui in questo territorio assolutamente sì assolutamente si può fare e secondo me si deve fare perché io sono convinto che Piedimonte in questo momento diciamo che raccoglie forse la principale fonte di tifo del Matese voglio dire potrebbe essere ancora più grande se un progetto fosse comune a tutti territoriale fosse la prima cosa che bisognerebbe concentrarsi per la creazione di un'infrastruttura importante perché si parla dello stadio di Caserta si parla dello stadio che costruiscono in ogni parte di Italia ma a noi qua chi ci pensa? se non si lavora seriamente per un progetto comune che raccoglie 150.000 persone 44 comuni purtroppo qua c'è troppo una mentalità del paese e io mi batto tutti i giorni ecco perché esiste il progetto Alto Casertano quindi secondo me bisognerebbe cambiare invertire un po' la tendenza allora faccio un'ultima domanda sia a lei che a Nick Buontempo un risultato secco per la partita di domenica a Piedimonte faranno gli scongiuri sicuramente Termoli Matesa no non mi faccia pronunciare è una partita veramente Nick Nick che anche parte in causa fa parte della della polisportiva tu che dici? del Matese non lo so io sono scaramantico quindi ci credo a queste cose non voglio mettere altra carne a cuocere no ok il tempo a nostra disposizione è terminato ringraziamo il nostro amico pilota il presidente Montaguila sempre gentilissimo grazie senza offendere nessuno e anche il capitano di basket buonasera a tutti a risentirci alla prossima puntata di Caserta stadio buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti Grazie a tutti.